Il suo ritorno è stato formalizzato solo a poche ore dalla fine del volley mercato. Dopo un solo anno di lontananza, Matteo Brustaler riveste la maglia di Trentino Volley con l'obiettivo di rendersi sempre utile alla causa gialloblu. Il centrale di Villazzano ha raccontato ai microfoni di Trentino Volley TV l'emozione di poter nuovamente giocare con la squadra della sua città. Sono molto felice di essere ritornato. Ci racconti un po' la trattativa perché è stata una trattativa a lampo fino ad una settimana prima. Non si pensava che Trentino Volley potesse aggiungere un innesto, invece poi è arrivato un bel innesto. Sì, è stata rapidissima, è tutto nato nelle ultime due o tre settimane. Ovviamente io lo sapevo, non è stata una gran sorpresa per me, è stata una sorpresa che siano arrivate poi delle telefonate e degli attestati di stima sia dal parte del direttore generale che da parte di Angelo con il quale abbiamo fatto una bella chiacchierata un paio di settimane fa. Mi hanno coinvolto, mi hanno entusiasmato, mi hanno fatto accettare senza ombra di riserva. Guardando la carta d'identità sarai il più esperto di questa rosa, quindi probabilmente ti si chiederà qualcosa di più anche a livello di spogliatoio, quasi da fare da chioccia a alcuni giocatori molto giovani. È quello che mi ha motivato forse maggiormente, nonostante io mi sento ancora un giocatore e questo ci hanno tenuto a precisarlo, in particolar modo l'allenatore, mi ha motivato e mi ha inorgoglito tantissimo il fatto che si cerchi in me anche un elemento umano, insomma un collante, una persona che porti qualcosa di più anche a livello extra pallavolistico e questo mi ha appunto, sono i benefici, pochi benefici di andare avanti con l'età, insomma si guarda le esperienze. Torni a Trento con maggiore esperienza dopo la stagione di Milano? Ma diciamo che non si smette mai di imparare, neanche di essere sorpresi. Io mi aspettavo delle difficoltà, ne sono nate tante delle quali non ero a conoscenza e che non mi aspettavo di incontrare. Ho imparato tanto, di sicuro è stato un mercato che mi ha prosciugato a livello psicologico e per quello infatti che ero restio a accettare anche altre offerte che mi sono arrivate. In quel momento si è inserito il direttore generale, si è inserita la Trentino Volle e io non devo stare di certo a spiegare qua adesso in poche parole cos'è la Trentino Volle per me. L'8 agosto è piuttosto vicino, si inizia subito a lavorare già con un gruppo piuttosto nutrito di giocatori. Può essere un vantaggio in vista dei primi appuntamenti ufficiali? Sì, ho vissuto l'epoca, forse il primo anno che ero qui che eravamo in tre, io Max e Pippo quindi cominciare già in otto sarà una bella cosa, sarà più utile. Poi è tutto nuovo, ci sarà il nuovo allenatore, ci sarà poi lo staff che conosco quindi sarà un mix tra nuovo e vecchio che credo che dia slancio entusiasmo a un ambiente che negli ultimi anni ne aveva avuto poco forse. E poi c'è questa bella storia della maglia numero 3 da raccontare avevi il 17 e l'hai lasciato ad Urnaut e hai deciso di prendere il 3 che in passato è stato vestito da birrarelli. Perché? Ah, va bene, il 17 è il mio numero e sarà sempre il mio numero diciamo che la prima volta che vedo Urnaut gli dirò che mi deve una birra perché forse per anzianità avrei potuto puntare i piedi però non me la sono sentita, è giusto insomma che lo tenga lui e tra gli altri numeri ho scelto il 3 al di là che è la mia terza esperienza a Trento che se dovessimo vincere un trofeo sarebbe il mio terzo perché ho vinto tutto in coppia quindi e poi l'ho detto a birra a livello privato per me lui è sempre stato un esempio sia a livello di giocatore che a livello umano e per me è solo che un onore insomma portare il suo numero. Allora bentornato e ci si vede l'8 agosto. Grazie mille, a presto.